Un corso di teatro e uno di fotografia sono stati finanziati dalla Fondazione Tercas rivolti ai non vedenti e agli ipovedenti. Sono progetti unici nel loro genere che si terranno a Teramo e a Pineto. Il progetto Guardare Oltre ha una rilevanza molto importante a livello sociale perché riguarda due progetti che si andranno a svolgere contemporaneamente. Un progetto di teatro per persone non vedenti, ipovedenti e normodotate. E lì faremo notare la differenza, anzi che non ci sono differenze, fra persone normodotate e persone disabili. L'altro progetto che partirà proprio oggi pomeriggio con il fotografo Mauro Cantoro è un progetto di fotografia dedicato a persone ipovedenti e non vedenti. L'ipovedente e il non vedente che scattano delle fotografie è una cosa molto particolare. Quindi questo progetto è proprio unico nel suo genere. Il corso di teatro si concluderà con uno spettacolo, quello di fotografia, con una mostra che verrà organizzata all'interno di Palazzo Melatino, sede della Fondazione Tercas. Sì, in maniera perfettamente coerente con la visione che la Fondazione da sempre ha della disabilità e della persona. La persona come ricchezza per la società, che qualunque siano le attitudini, le potenzialità, deve realizzarle pienamente. Quale contributo alla società e quale costituzione della personalità, perché ognuno di noi si definisce nel rapporto con gli altri. E il rapporto con gli altri è fatto soprattutto di dare, piuttosto che di ricevere. Quindi consentire alle persone che hanno una fragilità, qualunque essa sia, di realizzare pienamente il proprio potenziale, vuol dire consentire alla società di crescere in maniera armoniosa.